Perchè festeggiare una partenza? Prima domanda. Seconda domanda. Cosa fa Gesù adesso in cielo? Prima domanda. Perchè festeggiare? Seconda domanda. Cosa fa Gesù in cielo? Perchè festeggiamo? Perchè con l'ascensione è accaduta una cosa nuova e bellissima. Gesù ha portato la nostra umanità, la nostra carne in cielo, la prima volta. Cioè l'ha portata davanti Dio. Quell'umanità che aveva preso in terra non è rimasta qui. Gesù dopo il risolto non era uno spirito, no. aveva proprio il corpo umano, la carne, le ossa, tutto. E lì sarà per sempre. Possiamo dire che dal giorno dell'ascensione Dio stesso è cambiato. Dedio adesso ci sono dubbi. Ok. Grazie a tutti